Si chiama Tom Litz, è un padre di famiglia il quale ha pubblicato un video su TikTok, questa app cinese per eccellenza, dove si mostra, dove si fa vedere che bacia il figlio di soli 5 anni di età, ma udite udite non nelle guance ma in bocca. Ecco, sappiate che il comportamento di questo signore di nome Tom è un comportamento che anche qui in Italia ma anche nel resto del mondo, viene compiuto infatti spesso e volentieri, i genitori baciano sulle labbra i propri figli. È una scelta che io considero abbastanza bizzarra, atipica, perché in genere baciare sulle labbra una persona, qualsiasi che essa sia, è un gesto che richiama anche ad eventuali legionamenti intimi, sessuali, per esempio se io bacio una ragazza è perché mi piace, perché comunque sono legato a lei, dal punto di vista sentimentale, poi intimo, di più avanti. Invece, in questione, diciamo che avrebbe baciato il figlio sulle labbra. Ecco, è aperto il dialogo, o meglio se è aperto il dibattito su di lui, oltre a un attacciato di essere sbagliato e di fare una cosa illecita. Cosa ne pensate voi? Ditemelo. Scrivete un commento, iscrivetevi al mio canale di YouTube, il narratore italiano, commentate, ciao a tutti.